Adesso la prova consiste in due prove. La prima è di girare l'antenna su se stessa e vedere cosa succede sul ricevitore. Vado a girare l'antenna. Vado a girare l'antenna. La seconda prova che adesso mi metto a fare è quella di lasciare l'antenna ferma nella sua direzione, ma in questo caso spostare il cavo coasiale, il semplice cavo coasiale. Vado. Vado a girare l'antenna. 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 Adesso ho terminato di spostare il cavo coasiale, di attorcigliarlo, di spostarlo a destra a sinistra, di toccarlo in vari punti e vediamo il risultato. Vado a girare l'antenna. Vado a girare l'antenna.